Promuovere il territorio e l'eccellenza a livello mondiale in chiave turistica e culturale grazie a Xterra, la famosa competizione internazionale di triathlon, è lo scopo principale della visita istituzionale effettuata lo scorso weekend dal sindaco di Scanno Giovanni Mastro Giovanni e dal vice sindaco Giuseppe Marone insieme alla delegazione scannese su invito del sindaco Matteo Sartori. L'occasione è stata la finale di Xterra World Championship, evento principale del circuito di cross triathlon più famoso al mondo. Due comunità quindi che si uniscono sulla frontiera del turismo sportivo e del dilettantismo che aggrega scuole, imprese, cultura, flussi turistici al fine di dare vita a un progetto di rete che possa avere ricadute economiche sui territori.